Gli ingredienti che ci occorrono per preparare questo ragù di carne sono mezzo chilo di grasso e magro, mezzo chilo di costolette e mezzo chilo di salsiccia, semi di finocchio, grani di pepe nero, cipolla tritata, circa un litro e mezzo di pomodoro e per quanto riguarda le polpettine che metteremo nel sugo avremo bisogno di mezzo chilo di carne macinata, circa 150 grammi di pan grattato, 4 uova, 100 grammi di formaggio grattugiato e del prezzemolo, ovviamente anche un pochino di sale e di olio extravergine di oliva. Come pasta ho deciso di fare questa. Gli ziti Gli ingredienti Gli ingredienti Gli ingredienti Gli ingredienti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.